Due giornate di screening ieri e oggi all'Aquila dedicate alle società sportive. La campagna messa in atto dal Comune si chiama Screening per lo Sport. È un'ulteriore misura di prevenzione come le altre già messe in campo, in vista della ripresa delle attività agonistiche, anche se per i campionati se ne parlerà più in là. Dirigenti, tecnici, accompagnatori e atleti hanno la possibilità di sottoporsi a test antigenico rapido, gratuito e volontario, per tornare sui campi in sicurezza. La base operativa è il Muspe di Via Ficara. Il primo appuntamento è stato dedicato alle società di rugby del territorio, dopo la richiesta avanzata dal Comitato regionale della FIR e dal suo presidente Giorgio Morelli. Personalmente mi sento di dover ringraziare il sindaco per la sua sensibilità. Noi abbiamo pensato di fare questo screening quando si pensava di poter riprendere l'attività nel mese di marzo, nella prima decada del mese di marzo. E quindi era utile avere un po' questa fotografia istantanea della situazione. Ora la scelta della federazione, una scelta molto prudenziale, rimette un po' tutto in gioco. In realtà stiamo cercando di lavorare con la federazione per vedere di consentire almeno ai club di poter, all'interno del proprio club, attraverso una campagna di screening fatta, ripetuta nel tempo, con una certa frequenza, poter riprendere gli allenamenti con il contatto. Perché il rugby senza contatto è un po' snaturato e si rischia di perdere il lavoro fatto in tanti anni. Saranno ammesse tutte le società che ne faranno richiesta e il sindaco ha voluto fortemente questa iniziativa per i ragazzi che potranno tornare finalmente a fare sport. Anche il nuovo basket Aquilano nei giorni scorsi era stato sottoposto a screening prima della ripresa delle attività. Diverse le società che hanno ripreso già le attività sportive in città, anche se non riprenderanno i campionati, polisportiva, paganica rugby, rugby experience, mentre nel calcio l'Aquila Soccer School. Gli atleti che riescono a soffrire di questi controlli molto ripetutini al tempo, molto frequenti, a intervalli molto ristretti, di fatto si trovano in una condizione privilegiata perché si trovano maggiormente tutelati, sempre nella misura in cui si può parlare di tutela in una condizione di estrema contagiosità e pericolosità del virus. Però tra il controllo dei medici sociali, tra i tamponi fatti con certa frequenza, ecco che il mondo dello sport e del rugby in particolare si pone all'avanguardia per offrire un qualcosa in più, un malore aggiunto.